Ehi, hai trovato qualcosa? No, c'è solo spazzature e vecchie cose e poi una vecchia pellicola di un film e mi pare il vestito di una femmina, russo Eh? Amore mio Ma è bellissima Eh? Era quello che ti piaceva a te Ti ho fatto mettere pure il fiocchetto, guarda che bello Ma quando me lo metto questo? Ma come quando me lo metti? Adesso Quattiero, guarda a mettere qua dietro, dai Dai, ti aspetta che ti voglio far vedere una cosa, dai Eh? Ammazzo Perché non ti piaccio? No, no, pure troppo Amore, via, via, via con me Mamma mia, ma che ti fa? Non mi sono presentato, io sono Romolo Sono direttore di produzione del film che stiamo a fare in paese E siccome stiamo a cercare ragazze del posto per farle diventatrici Volevo sapere se veniva Magari io presentavo il regista Grazie a tutti